A Giulia Nova il ribaltone sulla gestione dei rifiuti che a breve passerà da Diodoro alla ditta Rieco sta creando disagi agli utenti. Alcuni cittadini sono andati all'ecosportello ma non hanno potuto ritirare i bidoncini per la differenziata. Diodoro ne ha sospeso la consegna per le incertezze organizzative seguita la sentenza del Consiglio di Stato che ha imposto il cambio alla guida del servizio. Una situazione che ha acceso le polemiche da parte dei gruppi della sinistra locale che accusano l'amministrazione comunale di aver gestito male. La gara d'appalto. Questo che è accaduto è un fatto molto grave cioè è dovuto intervenire la magistratura, il Consiglio di Stato con atto definitivo a stabilire che la gara che era stata fatta per la gestione dei rifiuti a Giulia Nova era una gara non svolta correttamente tanto che è stato annullato l'esito per cui chi aveva vinto non è più ovviamente l'azienda che è vincitrice ma è stato ribaltato il risultato ed è stato praticamente decretato il subingresso della seconda azienda arrivata. E questo in base a un punteggio ovviamente calcolato male nel momento in cui la Commissione ha valutato tutti i criteri da rispettare. Della vicenda legata ai rifiuti il cittadino governante chiede anche l'insediamento di una commissione consigliare per fare luce su quanto accaduto ma sottolinea anche il fatto che grazie al ribaltamento della graduatoria deciso dal Consiglio di Stato il Comune risparmierà circa 500 mila euro annui sui costi del servizio di gestione rifiuti. E quindi in 5 anni 2 milioni e mezzo di euro in meno. Poi dall'altra noi dobbiamo rilevare anche una cosa molto grave che cioè questo problema noi l'abbiamo sollevato nell'estate scorsa in Consiglio Comunale perché guardando la documentazione c'erano dei dubbi. Allora abbiamo detto mettiamo in piedi una commissione consigliare per approfondire questo aspetto. Ci fu risposto di no che era tutto corretto e naturalmente la cosa grave è che poi dopo al ricorso della ditta che aveva appunto all'epoca vinto la gara si è affiancato anche il Comune quindi si è schierato da una parte e adesso la condanna riguardo non solo la ditta che appunto non aveva vinto in base a quella graduatoria stirata all'epoca ma anche il Comune che deve pagare le spese e quant'altro verrà fuori. Noi crediamo che questo aspetto non sia singolare e non sappiamo se è un mero errore tutto quello che sta accadendo o se c'è dell'altro che vorremmo anche far capire anche ai cittadini per trasparenza.